Qui è Aquafortis di Aquafortis Astrology e oggi vi volevo parlare di Giove in Scorpione. In questo video spiego cosa possiamo aspettare da Giove quando sta nella casa dello Scorpione, sia come società e come individui. Do anche qualche suggerimento di come utilizzarlo al meglio, questa energia. Allora, se vi piace questa idea, mettetevi comodi e cominciamo. Allora, Giove entra in Scorpione il 10 di ottobre 2017, alle ore 15 e 20 ore di Roma. E ci rimane fino all'8 di novembre 2018, per cui è un anno e quasi un mese. È un lungo transito. Cominciamo dalle basi. Chi è Giove? Giove è come la primavera, mutevole, allegro, fiducioso, ottimista, raramente si deprime. Ama stare con il sole, ama interagire con gli altri, è il pianeta della buona sorte. È così mutevole che non gli piace guardare molti dettagli o stare fermo troppo a lungo in un posto. Sta sempre in cerca di nuovi orizzonti, nuove scoperte, nuove cose che gli interessano. Chi assomiglia a Giove nella nostra società? È tutte le persone che hanno a che fare con la legge, religioni di tutti i tipi ed insegnamento. Per cui gli esempi sono giudici, avvocati, senatori, vescovi, preti, studenti, universitari, insegnanti, guru, maestri. Quindi, dite voi, chi assomiglia a Giove come carattere o cose che fa? Persone che sono eternamente ottimisti, benefattori, imprenditori, esploratori, persone che motivano gli altri. E chi è lo scorpione? Scorpione è un segno zodiacale governato da Marte. E Marte è l'energia che ci permette di staccare dagli altri e fare quello che noi vogliamo. E anche di difenderci quando serve. Scorpione è la versione di Marte di notte nella palude. Sì, avete capito bene. Marte di notte nella palude. È un Marte che ha imparato l'arte della pazienza e della strategia. Vive in acque torbide e fangose, per cui non usa gli occhi per vedere, ma usa l'istinto viscerare e le emozioni. È diventato un maestro della visione notturna, per cui può capire e captare cosa succede dietro le quinte. Cosa succede a Giove quando è in scorpione? Quando sta in scorpione, Giove deve modificare un po' il suo comportamento, perché deve obbedire le regole di Marte. Ed è le regole di Marte in versione notturna, nella palude. Per cui Giove diventa più riservato, meno espansivo, impara a stare un po' fermo in un posto più a lungo, a guardare i dettagli, a osservare, andare in profondità, ad avere più contatto con le sue emozioni. Ricordate però che Giove assomiglia più alla primavera, ma quando si trova in scorpione, deve imparare ad essere più autunno. Qui stiamo praticamente vedendo un Giove che deve andare un po' contro la sua natura. E non sempre è contento di farlo e deve adattarsi molto, ma Giove sa adattarsi molto. Per cui lo fa, tranquillamente. Però ogni tanto Giove diventa un po' più teso e un po' più stressato. Come si esprime Giove nella società? L'influenza di Giove nella società è molto visibile, perché Giove è un pianeta sociale, per cui lo vediamo molto come la società si muove e si adegua nel tempo, e riflette la sua energia, la società. Per cui saremo meno ottimisti, con meno voglia di espandere, più prudenti, più emozionali, ma ne parliamo di meno delle emozioni, meno aggressivi sull'impulso, ma più macchiavelli come agiamo. Nella moda i colori più scuri predomeneranno, come il marrone e il rosso marrone. Notizie sulle leggende segrete dei governi, religioni e educazioni non cominceranno a uscire fuori di più. Aumenta la voglia di studiare o leggere le materie esoteriche occulte, come l'astrologia, psicologia, religioni esoteriche, scienze forensiche. Ci sarà un aumento di interesse negli ecosistemi delle paludi, opposti umidi e bui naturalmente, scoperte di come riciclare al meglio i nostri rifiuti e le nostre tossine, scoperte sui sistemi riproduttivi. E personalmente, come ci segnerà il giovane scorpione? Per i nati sotto il segno dello scorpione, toro, acquario e leone, sono quelli che lo sentiranno di più, perché stanno in diretto contatto, come l'asse. Cancro e pesci sentiranno un'amplificazione della loro vita emozionale. Vergine e capricorno sentiranno un supporto alla loro natura già introspettiva, e li si aumenta di più questa cosa. Ariete, gemelli, bilancia, sagittario, lo sentiranno attraverso la società, non direttamente, solo attraverso la società, e si adegueranno se è necessario. Ma tutto questo cambia se avete ascendenti o pianeti nel segno dello scorpione, toro, acquario e leone. Cosa possiamo fare in generale parlando? Leggere o studiare psicologia, astrologia, scienze esoteriche, tutto quello che è un po' dietro le quinte. Come riciclare meglio i nostri rifiuti, imparare come gestire rabbia e gelosia, indagare insieme a un consulente vecchi traumi emozionali che sono rimasti lì in fondo a bollire pian piano, essere più in contatto con quella parte di noi che sta sempre al buio, lontano dal sole, quella parte che non facciamo vedere mai. Praticate sesso sicuro, perché scorpione è un segno fertile, e se non volete bambini, sapete cosa dovete fare. Praticate anche sesso sicuro, perché scorpione è associato con malattie sessualmente trasmessi, e questo vale per tutti i generi di coppie. Fate un controllo dei vostri sistemi riproduttivi e i vostri sistemi che aiutano a eliminare le tossine del vostro corpo, per cui come l'intestino, cistifelia. Effetto Marte in tutto ciò. Ricordate che Giove è in scorpione, cioè nella casa governata da Marte. Per cui, come si comporterà Giove in questo anno e passa? Bene o male dipenderà da cosa Marte sta facendo. Se Marte è in un posto che gli piace, tipo Capricorno, o riceve delle comunicazioni liete da altri pianeti, allora Giove si comporta bene e diventa il guru dell'occulto, il maestro, il grande psicologo, il grande investigatore o scienziato, nella forensica, nell'investigazione. Ma se Marte è in un posto che non gli piace, come la bilancia, o riceve comunicazioni non liete da altri pianeti, o sta andando indietro nel cielo, per cui sta il motore drogrado, allora abbiamo una situazione tipo Halloween a Google. Questo è un lungo transito, dura un anno e un mese, e ne vedremo l'evolversi della situazione, perché poi succederanno anche altre cose. Vorrei tanto sapere cosa ne pensate, scrivete nei commenti, anche durante l'anno, a vedere come ad ognuno di noi ha l'effetto di Gioven Scorpione com'è. Veramente voglio saperlo, condividete e sottoscrivete, sono disponibile a consulenze private, basta che mi mandate un messaggio, e sono anche su Facebook e Instagram come Acqua Fortis Astrology. Spero che questo video vi è utile, che vi è piaciuto, e ci vediamo presto. Grazie tanto, ciao!